Dopo anni di attesa, l'area di parcheggio di via Santa Caterina, via Rota, nella frazione di Oreno a Vimercate, si prepara per il suo completo rifacimento. È ormai in via di definizione il progetto portato avanti dall'amministrazione comunale per intervenire sull'area di sosta del borgo, un piano di riqualificazione presentato al pubblico a Palazzo Trotti. Abbiamo pensato di fare, prima di procedere all'approvazione definitiva del progetto, di fare un momento di presentazione alla cittadinanza per raccogliere eventualmente anche qualche spunto o dovesse sorgere. Diciamo che l'intervento principalmente mira a riqualificare la pavimentazione, che come sappiamo è molto sconnessa da parecchio tempo perché al momento non è sostanzialmente pavimentata né in asfalto né in pietra. Invece questo intervento prevede sostanzialmente la pavimentazione in pietra o comunque con diversi materiali. L'intervento però non si limiterà al rifacimento del parcheggio ma punterà anche a intervenire sulla viabilità, obiettivo inaugurare la nuova opera entro la metà del 2024. L'ingresso del parcheggio sarà sostanzialmente da via Rota, via le rimembranze, quello che è adesso, e l'uscita invece sarà da sopra, da via Santa Caterina facendo una sorta di anello. Quindi oltre alla riqualificazione della pavimentazione è prevista anche la realizzazione di una nuova viabilità. È prevista anche la realizzazione di una pista ciclabile, ciclopedonale accanto al parcheggio stesso e quindi l'obiettivo è migliorare le condizioni del parcheggio lasciando alla fine sostanzialmente invariati il numero degli stalli.